Grazie a tutti. Credi tu che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Tu credi che Lui è morto ma il terzo giorno è risuscitato e siede alla destra di Dio e intercede per noi? Tu credi che Lui è morto per i nostri peccati, per darci la vita eterna? Aspetta amore, aspetta. Con questa confessione noi ti battezziamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Sono daütko, 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 il tuo tuo identità è riscardo, sono daütko, daütko, Tu credi che Gesù Cristo è morto per i peccati Per darti la vita eterna Credi che Lui è seduto alla destra di Dio e intercede per noi Tu credi che Lui verrà a rapire la sua chiesa e la porterà in cielo con Dio Per questa confessione noi ti battezziamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Credi che Lui è morto per i tuoi peccati, per darti la vita eterna? Tu credi che Lui ritornerà per rapire la sua chiesa? Con questa confessione noi ti battezziamo nel nome del Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo Credi che Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati, per darti la vita eterna? Credi che Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati, per i tuoi peccati, per i tuoi peccati, per i tuoi peccati, per i tuoi peccati! Credi che Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati, per i tuoi peccati!